Signori, io vi benvenuto in questo gioco dove vi praticamente devi lavare i vestiti, è grandissimo. Comunque, ho scoperto una cosa, perché io giustamente vedevo che lui controllava che una volta che finisce il coso, l'ha visto sull'orologio. Io ho notato che c'è il timer, questo 2 minuti e 42, poi i reali, questo 50 secondi, questo è finito. Grande, meh. 5 euro, voi potete vedere che io, la mangio, vedi, 35 secondi, 2 minuti e 24, 5 secondi, grande, questo è quasi finito. Allora, meh, vedi, 5 euro, esce, esce il 9 secondi, vedi, ori, che cazzo è ori? Ah, grande, vabbè, poi è giustamente, hai pure l'ha visto sul coso. Meh, dammi qualcosa, 10 euro, esce, la mangio proprio, che ora, eh? Mi confondo sempre, vedi, 3, vabbè, ma questo non mangio, cioè, la pausa pranzo, ma io mi chiedo, anche per comodità, no? Cioè, giustamente, qua la lavatrice, qua l'asciugatrice, ma che cazzo ne so? Vedi, qua le asciugatrici, qua le lavatrici, ma qua, delle, cioè, questa è una lava asciuga, il Kuzmo Bank. Questa che cazzo è? Cioè, scusa, fammi vedere. Tieni premuto per riempire. Cioè, questa è una lava asciuga, perché, cioè, capito, pure per comodità, no? Cioè, capito, tu metti tutto dentro la lava asciuga, finisce, no, lavatrice, asciugatrice, ma io lo dico anche per, cioè, cioè, pure per velocità, senza che devi fare avanti e dietro, avanti e dietro, avanti e dietro. Poi, io quando vivro da solo, qua a casa, ho, giustamente, ho la lavatrice e l'asciugatrice. Cioè, anche giustamente, quando vivro da solo, lavo asciuga, metti, una volta che è finito, ha finito tutto. Beh, 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 grande. Grande, beh, 30 euro, oh, qualcuno che paga. Vedi? Cioè, il timer funziona veramente. Allora, doffernut. Cioè. Allora, è grande, mettilo qua, dai. Cioè. Beh, eh, signori. Allora. Vabbè, senti, io per comodità, senza che devo andare fino là. Ma io mi chiedo, questo? Ok. Allora, fammi vedere dove. Ma questo ha finito e quindi lo posso mettere qua? No. Oh, gazz. Oh, gazz. No, quella è solo una lavatrice. Vabbè. Vabbè. Abbiamo imparato. Ma è grande, prendi. Prendi tutto, prendi tutto. No, 20 euro, buono, dai. Eh, un minuto. Un minuto e dieci. Vabbè, quelle non dico che sono inutili, però quando c'è un bordello di gente. Vabbè, metti i panini. Stendi i panini. Prendi i panini. Prendi i panini. Comunque, cioè, ma io non ho capito, poi. Cioè, io dico, tu giustamente, dentro sto gioco, cioè, capito, tu devi trasformare tutto questo in una sala giochi. Ma io dico, poi ci sarà questa, ma poi ci sarà la lavanderia e la sala giochi, oppure poi si smantella la lavanderia perché abbiamo fatto i big money? E faremo i soldi solo con la sala giochi. Io questo mi chiedo. Ma è grande. Ah, sì, fra. Grandissimo. Che bel lavoro. Oh, sì, qui, io vi.